Bene ragazzi sono TobiQ7 e bentornati sono Andrea Games Oggi siamo con... con... su Dragon Ball Xanaverse 2 Per fare le nuove missioni parallele, le porto un po' tardi perchè... Però... non ho mai avuto il tempo di farle Allora, iniziamo subito, prendiamoci il nostro personaggio, Goku E... oh 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 Vegeta E... oh 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 Vado se da scopertrice di talenti E' che chiunque mi chiede, potrebbe essere capabile di venire, incondizionalmente Almeno, questo è quello che mi ha detto Ok ragazza, suoniamoci subito E' che ne ho mai avuto il tempo, non ho visto che erano i miei versori, però E' un po' tardi, non ho capito, non ho capito E' un po' tardi, non ho capito, non ho capito E' un po' tardi, non ho capito Ma... ma è un po' tardi, non ho capito Ma è una boondanza dove vive Oh... No! AbПerenci al srompere! Questa è la migliora di Supremo, non so come posso farlo. Questo non è un combo ultimo. no 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 madò ho messo con me per questo mi sono un foglione anch'io oddio era già morto se non mi cambia di remetto e ce l'ha con me vai a fine con me no tranquilla non è stile perché mi scontri di anche sotto a caleta ditemi l'asciuto non mi devi incazzare e prossimo che è it ma perché non lo prendo perché non lo prendo perché mi devo arrabbiare io continuo a spammare, non mi ne frega un cazzo niente sto, è risposto non lo faccio a fare di botte bravo Legita, ammira Baby, più grande dell'universo non lo faccio non lo faccio non lo faccio non lo faccio ah il è è C'è un sacco? C'è un sacco? C'è un sacco? Non ti so, io ti so. C'è un sacco? Non... Ma ho pensato di come stai davvero stai. Non ti so. Ma dai, ma che merda? Grazie! Eeeh basta! Eeeh poi! Eeeh poi! Eeeh... 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 Ok... Eeeh... 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 Ehi ha me ha! Non è un'altra capta. Non è abbastanza bene. È un'altra un'altra move. Deve essere molto attraverso questo. Grazie a tutti! Grazie a tutti! E ci hanno tutta la stracazza di vita 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 E noi vinciamo Perchè questo è l'ora che possiamo arrivare a qualche tipo di accordo Mi piacerebbe, Lord Champa, non cercare di farlo Tutta la stracazza di vita